Il punto sulla crisi economica in Alto Adige sono mille le richieste presentate per quanto riguarda il sostegno dei lavoratori. Vediamo. Parla di quasi mille domande presentate agli uffici provinciali. Il primo bilancio riguardante è uno dei provvedimenti contenuti nel pacchetto anticrisi messo in campo dalla provincia di Bolzano e dalla regione che prevedeva che i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione avessero accesso a delle forme di sostegno economico. Tutti i lavoratori che a causa della crisi economica avevano perso il proprio posto di lavoro o erano stati messi in cassa integrazione tra il 1 settembre 2008 e il 31 agosto 2009 avevano tempo fino a febbraio per avanzare richiesta di sostegno economico. Il provvedimento varato dal Consiglio regionale su proposta dell'assessore Marta Stoker prevede il coinvolgimento della provincia nell'elaborazione delle domande. Fino al 1 febbraio, spiegano gli assessori al lavoro Roberto Bizzo e alle politiche sociali Richard Heiner, sono state presentate 947 domande, 427 da persone rimaste senza posto di lavoro e 520 da chi è stato colpito da provvedimenti di cassa integrazione totale o parziale. Bastano questi numeri a dimostrare l'importanza del provvedimento. In queste settimane le richieste sono in fase di elaborazione da parte dell'ufficio provinciale Previdenza ed Assicurazioni Sociali e i pagamenti dovrebbero partire con l'inizio del mese di aprile. Il meccanismo prevede che la Regione possa elargire per un periodo massimo di sei mesi un contributo che non può superare i 1.040 euro al mese. Il prossimo termine per la presentazione delle domande relativo al periodo 1 settembre 2009-28 febbraio 2010 scadrà il 30 aprile. Le richieste di sostegno economico dovranno essere presentate all'ufficio Previdenza ed Assicurazioni Sociali oppure presso i patronati.